Ecco lo chef che ci spiega le sue prelibatezze, ma questo sugo che cos'è? Spaghetti con pienolo, corbarino e datterino. Sicuramente tra i tre allenatori più bravi è una crosta del re, si è andato da Juventus perché lui è un professionista, però è che ci ha andato direttamente. Quindi lui è passato da Juventus e poi l'ha preso da Juventus. Per me Maurizio Sabi resta intoccabile nella memoria.